Chima Mobilità è stata svuotata degli utili di bilancio che sarebbero serviti per acclimatizzare l'officina e migliorare la condizione dei lavoratori. Forte è la disapprovazione di Carmelo Sasso, segretario provinciale UEL Trasporti. 4,3 milioni di utili di Chima Mobilità, racconta al netto delle imposte, sono stati assorbiti dal socio unico comune di Taranto. Una situazione è venuta alla luce nel corso dell'ultima assemblea dei soci dell'examat che ha provocato sconcerto tra rappresentanti del sindacato e lavoratori, come afferma lo stesso Sasso. Dopo due utili di bilancio consecutivi importanti, i lavoratori attendevano azioni che andassero oltre l'autolavaggio dei bus, c'era una richiesta pendente da almeno tre anni di regolarizzazione del microclima dell'officina dove manca un impianto di climatizzazione, c'era un progetto accantonato in un cassetto da anni per un costo di 500 mila euro, adesso dopo anni di sacrifici, dopo anni di servizi svolti in carenza di personale e in condizioni del manto stradale veramente difficoltosi, i lavoratori si vedono un'altra volta depredati dell'utile dell'impresa al quale hanno contribuito e soprattutto già ci aspettiamo che nelle prossime trattative l'azienda ricomincerà dicendo che bisogna essere morigerati nel dare il giusto riconoscimento ai lavoratori. Purtroppo il Comune pare essere in difficoltà per diversi milioni di euro sull'assestamento di bilancio.